dobbiamo accettare mi pare mi chiede di accettare ciascuno deve accettare vabbè iniziamo direi allora io volevo semplicemente dare il contesto di questo incontro di oggi che si colloca in un ciclo di eventi socio-culturali che abbiamo pensato di organizzare come Consorzio delle Galline Felici che presto avrà un nome ma ancora non ce l'ha perché questo è il primissimo evento di questo ciclo che ha un po' lo scopo di uscire dal nostro cortile e affrontare tematiche sociali, culturali, politiche di interesse comune di tutti quelli che fanno parte di questa nostra comunità ovvero produttori sia soci che fornitori ma anche dipendenti del Consorzio e quindi rafforzare questa nostra comunità e quindi ricordo anche che siamo sempre tutti i soci, i dipendenti sono invitati a proporre temi o a ospitare questi eventi perché in realtà questo è un evento un po' particolare perché è online invece il resto di questi eventi saranno dal vivo proprio per vederci, conoscerci meglio approfondire anche le conoscenze reciproche però questo evento specifico è online visto che coinvolge relatori che sono anche un po' lontani per esempio Monica, Nicola e quindi abbiamo pensato di fare una prima parte online per iniziare ad accendere un dibattito che se poi vediamo che è un dibattito che ci appassiona avremo anche opportunità di approfondirlo poi dal vivo in una delle nostre aziende mettendo a calendario avevamo pensato a maggio e quindi no, niente questo giusto per dare il contesto ringrazio Vincenzo che è stato il promotore di questo primo incontro con una tematica così calda e attuale che è quella delle proteste degli agricoltori e di quello che ci sta dietro di tutto il contesto in cui si muovono gli agricoltori oggi e niente quindi lascio a Vincenzo moderare e a ciascun redatore fare il suo intervento grazie io chiedo a Cati chi vuole intervenire che fa alza la mano e tu li segni o li segno io? se scrivete se scrivete o alzate la mano o scrivete nella chat che volete intervenire e io mi appunto ti metto un coda anche se potete rinominarvi cliccando sulla vostra icona col tasto destro compare un piccolo menu e potete scegliere rinomina e potete rinominarvi con il vostro nome anche solo il nome va bene e o la vostra realtà di riferimento se siete parte di un'organizzazione o la città da cui ci state seguendo giusto ai nostri fini per capire un pochino chi c'è qua presente grazie e dov'è la che si può rinominare che non mi ricordo in alto a destra se sei sul tuo quadrino del video ci sono tre puntini in alto a destra se chiedi lì c'è rinominare giusto rinomina giusto perfetto per esempio c'è questo utente zoom che non si è palesato che dovrebbe essere arcangelo mi pare ah vero vero allora la possiamo rinominare è vero mi rimaneva ci rasellame no allora iniziamo allora bene io ho diciamo inizio così come a fare non ho preparato nulla chiaramente perché ho delle domande diciamo che mi frullano in testa ho ascoltato in questi periodi varie posizioni ci sono varie posizioni quindi l'obiettivo è cercare di capire almeno dal mio punto di vista se queste proteste hanno un fondamento se se ci sono posizioni diverse perché ci sono posizioni diverse perché in effetti io stesso nei giorni scorsi quando leggevo le sigle che ci sono che protestano e protesto in luoghi diversi in modo diverso eccetera anche io mi sono un po' confuso no la stessa ho fatto che ci sono varie manifestazioni quindi ci sono posizioni diverse ora poteva essere utile capire intanto se queste proteste hanno un fondamento e quindi la domanda la faccio ai relatori innanzitutto volevo pensavo di iniziare con Monica se ci sono c'è un fondamento su queste proteste e chiaramente noi siamo agricoltori i soci del consorzio e quindi sentiamo che c'è qualcosa nell'aria la stessa essenza del consorzio in qualche modo ha voluto essere una risposta forse inconsapevole allora di 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 una risposta ai problemi che ora stanno sfociando nelle proteste no il fatto che il consorzio vende esclusivamente ai gas fu diciamo una visione lungimirante di qualcuno che non nomino che è qui presente però tra noi che volle scommettere sul fatto di bypassare il mercato che lo strozzava e quindi ci proviamo a a a interloquire con chi alla fine si mangia questi prodotti ed è stata probabilmente una scelta vincente e forse una delle soluzioni della crisi attuale potrebbe passare anche da lì dal vendere direttamente ai consumatori però c'è una strada difficile perché c'è un mare di gente di organizzazioni che speculano e vivono nella filiera e quindi se si vuole bypassare tutto questo mondo saranno uccelli senza zucchero come su soldi ragazzi amari perché chiaramente loro non ci staranno dice sì bella tu produttore vende al consumatore io che faccio guardo te o guardi il consumatore e quindi probabilmente anche quell'esterno allora ritorno alla domanda iniziale perché protestano gli agricoltori e perché ci sono posizioni diverse nelle proteste mi fermo qua e passo la parola a Monica Di Sisto di Firewatch vicepresidente di Firewatch che è un'organizzazione non governativa che si occupa di che si occupa di fare monitoraggio dei negoziati commerciali e sul clima a livello nazionale a livello europeo a livello internazionale io in particolare mi sono sempre occupata di commercio e mi sono sempre occupata di agricoltura noi però pensiamo che non si debba rimanere solo ad osservare ma che si debba poi proporre delle alternative dei modelli pratici alle persone perché chiaramente se devi fare il cambiamento devi cambiare tutto secondo me ti devi mettere un'attitudine di cambiamento e quindi non puoi fare solo la beneficenza o il percorso verso la santità ma devi capire come porti anche praticamente pragmaticamente e per noi da sempre la economia solitale quindi quello che tu dicevi cioè ricostruire rapporti solidali nei territori tra cittadini che hanno diverse funzioni cittadini e cittadini quindi ci sono i produttori ci sono anche i produttori di altre cose di servizi materiali immateriali eccetera è un po' la risposta a questo mercato noi siamo nati nel 2003 dopo il G8 del 2001 proprio nell'idea che non si potesse ritornare a casa e che quindi bisognasse comunque provare a impegnarsi per portare quelle competenze che noi avevamo di osservazione della realtà anche istituzionale per provare a costruire delle proteste che avessero un senso e che riuscissero a mirare e a colpire non a venire menati come era successo a noi e per questo motivo e questo è il nostro modo di lavorare cioè fare osservatori cercare di capire cercare poi di comunicare di divulgare e provare a costruire delle vertenze e delle mobilitazioni alla domanda che tu rispondi quindi io alla base diciamo partendo da questa esperienza ti dico certo che c'è c'è una motivazione ce ne sono tante e vengono da lontano personalmente io ho cominciato a occuparmi di agricoltura nel 96 quando alla FAO e andai da giornalista giovane ma anche comunque da volontaria che aveva sempre eseguito i temi della solidarietà eccetera e ci fu il primo vertice dei contadini di tutto il mondo che dissero a noi diciamo le risposte che ci dà la FAO non ci vanno bene noi vogliamo la sovranità alimentare cioè vogliamo mettere parola nelle decisioni che ci riguardano come cittadini e come produttori i contadini italiani che erano in quell'esperienza erano pochissimi ce ne erano tantissimi però contadini che venivano dal resto del mondo questo perché perché gli effetti della globalizzazione si sono cominciati a vedere innanzitutto sugli altri paesi cioè sui paesi nostri ex colonie o paesi che erano i nostri fornitori storici di derrate noi eravamo quelli che avevano gli stipendi più ricchi quindi eravamo dei consumatori ricchi non ci siamo costi i problemi fino a la fine degli anni fino agli anni 90 con la crisi quella famosa finanziaria quando a un certo punto ci siamo resi conto che i nostri salari cadevano a rotta di collo che i produttori si trovavano in condizioni di essere in competizione con contadini che stanno dall'altra parte del mondo e che sicuramente avevano meno spese per rispetto di regole diverse perché se tu coltivi per esempio già basta che attraversi il Mediterraneo o anche l'Adriatico e molte delle leggi che tu come contadino in Italia devi rispettare di protezione dell'ambiente di protezione di te stesso di assicurazione di protezione degli strumenti di lavoro eccetera eccetera non li devi rispettare ma questa non è un vantaggio per chi non ha quelle garanzie capito quindi la nostra idea da sempre nell'altro mondo possibile in cui poi ci siamo conosciuti con Gianni è che le tutele debbano essere per tutti e i diritti debbano valere per tutti questo mondo però globalizzato ha portato a una livella cioè al fatto che comunque se io ti tiro in giù cioè se io abbasso gli standard e quindi abbasso i prezzi a livello globale chiaramente anche tu sei portato visto che ormai le imprese sono pochissime quelle che lavorano in questo mercato globale comode e che fanno le regole a prescindere dallo stato in cui operino e quindi portano una pressione anche sui decisori politici e alla fine pretendono da tutti quanti le stesse regole e anche gli stessi prezzi a questo si è unita una complicazione che è la finanza perché molte delle materie prime alimentari sono state inserite negli strumenti di investimento finanziario e quindi per esempio il grano ed altre grandi terrate sono come l'oro come l'argento strumenti sui quali si può investire e soprattutto si può investire si può scommettere sulla loro scarsità e quindi scommettere oggi sul prezzo che avranno tra un anno e due anni questa cosa cioè questi spostamenti di capitali sono del tutto fuori controllo non ci sono delle regole specifiche che li che li diciamo che li gestiscano che li frenino e quindi come c'è stato nel caso dell'Ucraina nel momento in cui non c'era ancora scarsità di nemmeno un granello di grano le grandi gruppi finanziari e grandi fondi pensioni hanno scommesso sul grano hanno scommesso quel grano per colpa della guerra in Ucraina non ci sarebbe stato più è successo anche col gas insomma con altre materie vime e i prezzi sono schizzati in alto questo in teoria per i produttori dovrebbe essere una buona notizia perché se i prezzi salgono in teoria a voi vi dovrebbero pagare di più la concentrazione del mercato e il fatto che non esiste un antitrust globale però neanche nazionale fa sì che le opportunità di mercato offerte ai produttori siano pochissime e quindi chi offre l'opportunità fa anche il prezzo non c'è bisogno di cercare lo diceva Vincenzo il grande manovratore no sono pochi e quindi fanno facilmente a mettersi d'accordo perché si vedono gli stessi posti si ragionano negli stessi board quindi negli stessi consigli di amministrazione dei grandi fondi di investimento delle grandi aziende sono sempre loro senza proprio necessità di manco mettere su una qualche congiura loro si organizzano per fare i loro interessi e quelli dei loro investitori e quindi tutti ritrovi con un un raccolto che magari diciamo è pure buono e magari sui quali hai investito tanto c'è il trattore che ti hanno detto di ammodernare ti dicono che devi investire sull'elettronica ti dicono che puoi ridurre l'uso di acqua ti dicono tante cose però quello che è vero è che alla fine tu ti ritrovi con pochissime opportunità di vendita questo non significa che c'è una grande un grande mondo che dice che bisogna diventare tutti più verdi perché vogliono fare i loro affari eccetera no cioè noi abbiamo bisogno di regole diciamo più importanti e più stringenti sulla protezione dell'ambiente questo non significa che quando a una parte del pianeta dice guardate anche l'agricoltura di grande superficie deve fare la sua parte per rendere il mondo più abitabile sia una cosa sbagliata tutt'altro però se veramente abbiamo questa intenzione ci vanno degli investimenti importanti e soprattutto bisogna rimediare a tre cose essenzialmente il primo appunto un governo della finanza per far sì che i prezzi siano dei prezzi aderenti ai costi della natura ai costi delle persone alla protezione dei diritti dei contadini e di chi lavora due un antitrust perché non è possibile che il settore per esempio dei semi il settore convenzionale eccetera sia dominato da pochi gruppi economico finanziari non è possibile e non è possibile neanche che le produzioni siano governate da pochi gruppi della grande distribuzione e tre ci va una protezione della qualità del lavoro non solo in Europa ma in tutti i paesi produttori e quindi nel momento in cui noi accettiamo merci che arrivano da altre parti del mondo noi dobbiamo assicurarci che in tutti quei paesi siano garantiti gli stessi diritti e si rispettino le stesse regole magari meno regole però proprio per tutti quindi sì ci sono tanti motivi di sollevamento io ho parlato con tantissime realtà diverse e anche con persone singole che siccome appunto si trovano nella condizione di essere fortemente indebitati di essere nella difficoltà di vendita di raccolto di essere nella difficoltà anche di renderlo profittevole eccetera si danno però a volte delle risposte che sono delle risposte assolutamente fantasiose quello che non stanno facendo c'è anche molta immaturità politica perché per esempio in alcuni appena hanno visto che sono stati invitati al ministero dell'agricoltura hanno pensato di aver vinto chiaramente persone come me che fanno da 30 anni i rapporti con le istituzioni sanno che quello non è una vittoria quello è l'inizio di una discussione dove tu devi essere bravo e devi essere soprattutto non ti deve emozionare perché ti invitano al ballo come cinerentola devi essere uno che ha dietro un coordinamento che non ha grosse smanie di protagonismo che ci abbia le idee chiare su quello che deve ottenere e che riesca a costruire la massa critica sufficiente per reggere quello che io vedo e che sto vedendo dai vari gruppi magari su questo poi ne sa pure di più nel senso che pure lui ci ha provato a quello che ho visto io da fuori a provare a metterli insieme è che diciamo questo mondo è fortemente influenzato dalla narrativa portata avanti da poche alcune grandi realtà della produzione che controllano le carte chi ti fa accedere a quel po' di supporto che puoi avere eccetera e quindi ti raccontano tante cose che in realtà non succedono e soprattutto che a te magari come piccolo agricoltore non ti servono e quindi e da un lato c'è questo e dall'altro c'è pure il fatto di dire ah è tutto colpa di quello e allora noi possiamo fare la rivoluzione se facciamo tutta un'altra cosa io penso che invece ci vorrebbe un momento in cui tutti si ritrovano so che c'è stato a Roma una tre giorni io purtroppo avevo un picci familiare non ho potuto partecipare dove un po' di questa discussione è stata fatta e penso che sia stata pure abbastanza interessante però bisognerebbe secondo me provare a costruire diciamo un'arena grande dei trattori grande dove ci stanno pure quelli che non ci piacciono ci stanno pure quelli che non la pensano come noi ma che però hanno la capacità che ci sia la capacità di mettere a fuoco alcuni di questi argomenti alcuni appunto generali come quelli di sistema che ho indicato io altri più tecnici e specifici però presentarsi poi tutti insieme ai tavoli istituzionali e dire guardate o così o noi non vi votiamo nessuno e continueremo a fare delle proteste dei sabotaggi a non conferire eccetera ultimo dico che io però sono convinta che il modello galline felici territoriale eccetera è il più vantaggioso soprattutto in questa fase in cui il clima e i problemi più generali che stanno generando queste dinamiche quindi anche i conflitti ci metteranno di fronte a delle problematiche che abbiamo visto anche in pandemia di diciamo di emergenze che noi non ci aspettiamo e quindi avere sotto casa un contadino e non un parcheggio farà la differenza per la qualità della vita delle persone penso che proprio con la pandemia un sacco di gente se ne accorta e quindi diciamo questa idea del mercato del mercato rionale del mercato più piccolo più vicino del rapporto umano personale sia più facile da capire che prima e quindi questa potrebbe essere secondo me il momento o uno dei momenti più opportuni degli ultimi vent'anni per provare a far sì che questi modelli si moltiplichino e diventino insomma più ci mettano al sicuro hanno i cittadini e mettano pure in una condizione più interessante più forte anche più decisiva a livello territoriale le tante belle esperienze di agricoltura che in questo momento faticano bene ti fermo un attimo quindi tu sostanzialmente intravedi dei problemi grossi a livello mondiale legati alla finanza che in qualche modo forse si è appropriata delle dinamiche dei prezzi e li gestisce così quasi a piacimento senza tenere conto degli attori veri poi a livello nazionale europeo e nazionale che ci sia veramente un'unione di queste forme di protesta per far sì che diventi massa critica forte giusto bene io ora passo la parola a Gianni Fabris a cui giro la stessa domanda hanno senso queste queste proteste hanno un fondamento le proteste degli agricoltori e perché ce ne sono diverse come sapete io sono entrato in questa diciamo in questa stanza in questo incontro venendo da un altro abbiamo appena finito una riunione del coordinamento nazionale di tutta una serie di realtà che stanno provando a mettere insieme le iniziative provando a fare sintesi di cui poi magari vi racconto qual è il percorso unitario intorno a cui stiamo lavorando prima di tutto dirvi però vi dico che noi siamo nati come altra agricoltura anche noi alla fine degli anni 90 in particolare il nostro battesimo come altra agricoltura è stato a Genova nel 2001 nella mobilitazione contro il G8 siamo nati come un movimento di agricoltori e contadini pastori alleati con i cittadini che fin dall'inizio ha scelto una strada precisa la critica alla globalizzazione neoliberista il modello dell'agroecologia e della sovranità alimentare come passaggio per uscire dal modello della crisi imposto dal neoliberismo detto questo la tua domanda hanno un fondamento allora guardiamo un attimo la realtà la realtà è questa proviamo a vedere partendo dalla chiave di lettura della critica alla globalizzazione neoliberista come possiamo provare in pochi minuti a rappresentare quello che è successo nell'impatto fra l'Italia che è sempre stato un grande paese agricolo contadino che della sua grande diversità produttiva che è diversità biologica diversità ambientale ha fatto uno degli elementi fondanti anche della sua cultura di paese oltre che della sua economia come ne è uscito e che cosa è accaduto nell'impatto con la globalizzazione neoliberista allora 40 anni fa intorno agli anni 80 per ogni lira allora di valore aggiunto che si produceva nello scambio dei prodotti agroalimentari un terzo remunerava le imprese agricole un terzo i trasformatori la logistica la trasformazione i servizi intermedi un terzo la commercializzazione oggi siamo a oltre due terzi del valore aggiunto che si produce che finisce nelle mani della commercializzazione tutti gli altri attori delle di quella che con un termine brutto ma insomma efficace degli attori della filiera si distribuiscono meno di un terzo questo è il primo lascito di questo impatto con la globalizzazione di questo paese con la globalizzazione neoliberista è un impatto che per cui la modernità del nostro tempo nelle nostre campagne del nostro agroalimentare in realtà si è consumato mettendo le mani in tasca al lavoro perché le imprese agricole e la trasformazione sono lavoro è la produzione è il lavoro la commercializzazione è soprattutto finanza tu commercializzi perché hai la capacità di contrattare nella capacità di investire nell'acquisto e nella vendita dei prodotti e finanza quindi in questo processo la finanza quella di cui parlava prima Monica ha messo le mani nelle tasche dei lavoratori dei produttori di questo paese non solo degli agricoltori anche dei pescatori dei piccoli dei piccoli medi produttori svuotando rubando lucrando sul lavoro e sulla produzione questo è il primo elemento che vi sottopongo il secondo è l'intera produzione che ha perso senso in questo paese noi siamo diventati in questi 40 anni da essere uno dei più grandi paesi al mondo produttori di cibo non tanto nei numeri ma nel quanto anche nei numeri ma soprattutto nella sua qualità nella sua diversificazione insomma voi sapete bene di cosa parlo se tu parti dal sud della Sicilia e arrivi al nord del Trentino ogni 50 km che fai mangi una cosa diversa incontri un territorio diverso parli un dialetto diverso la diversificazione di questo paese la sua millenaria storia e la sua condizione ambientale orografica ci ha consegnato questo enorme patrimonio della nostra cucina della nostra dieta del nostro agroalimentare se tu vai in Inghilterra anche lì mangi bene non mangi male ma insomma se vai dal sud al nord dell'Inghilterra sono 40-50 i piatti 30-40 quelli sono i piatti di quella cucina una cucina molto più omogenea in una storia molto diversa dalla nostra e che cosa è diventato questa grande risorsa in questo paese nell'impatto con la globalizzazione noi siamo diventati una grande piattaforma commerciale abbiamo perso la nostra anima la funzione produttiva in quel passaggio che descrivevo prima di furto di valore aggiunto è proprio l'attività del produrre il cibo soprattutto il cibo regato ai nostri territori alla nostra storia alla nostra cultura che ha perso significato il made in Italy è diventato quello che voi sapete perfettamente dei brand commerciali in cui dentro ovviamente non c'è più non solo il cibo di territorio nemmeno più le materie prime che si producono nel nostro paese è diventato una grande operazione speculativa che ha svuotato di senso di funzione di originalità ed è il produrre il nostro cibo e quindi ne ha svuotato il valore la funzione non solo economica ma anche sociale i territori si sono si sono abbandonati i nostri territori rurali si stanno desertificando le nostre il nostro sistema produttivo si è profondamente indebolito è la dignità del lavoro che ha perso significato alla tua domanda io la chiuderei qui alla tua domanda che ha un senso qual è la motivazione beh è chiara qual è la motivazione è una crisi profonda e una mancanza di prospettiva di futuro fondamentalmente e vengo subito poi a quello che sta accadendo invece in questi giorni in questi mesi in queste settimane nelle campagne italiane con la mobilitazione dei trattori intanto voglio dirvi voglio dirvi una cosa io ho visto nelle mobilitazioni dei trattori di questi giorni un elemento di profonda novità rispetto al passato il primo che vi sottopongo è che ho visto una generazione nuova in campo la stragrande maggioranza dei protagonisti dei presidi delle marce delle mobilitazioni dei trattori sono giovani io sono impressionato dalla diciamo dalla composizione da questo grande elemento di novità giovani figli di una generazione che ha perso è una generazione che io definisco sconfitta i padri di quelli che oggi sono molto spesso agricoltori anche loro che sono con i trattori nelle strade sono quelli che negli anni scorsi nei decenni scorsi a partire dalla fine degli anni 90 hanno condotto tantissime battaglie di resistenza nelle campagne voi siete in Sicilia sapete bene negli anni scorsi quale quali reazioni ci sono state nelle campagne di fronte al venire avanti della crisi io stesso sono stato spesso con voi in Sicilia a condurre diverse a condividere diverse iniziative l'ultima di un impatto importante fu quando nel 2009 se non ricordo male si mossero i trattori dal centro da Caltanissetta dal centro della Sicilia risalirono l'Italia non non fecero il giro intorno all'isolato prendendo gli altri trattori in mobilitazione in Basilicata in Puglia dall'Abruzzo arrivamo a Roma tenemmo due mesi di iniziative di mobilitazione chiedendo al governo già allora di intervenire sulla crisi tante altre iniziative sono state fatte nel tempo già alla fine degli anni 90 ma quella generazione è stata sconfitta travolta da un indebitamento fortissimo l'indebitamento in agricoltura di quella generazione è anche una chiave per leggere la trasformazione e l'impatto con la globalizzazione del nostro sistema agroalimentare l'indebitamento in agricoltura di un'intera generazione che è proprio fallita molto spesso avendo creduto alle promesse all'idea della liberalizzazione e dalle meravigliose sorti dell'apertura delle frontiere della competitività del mercato grandissimi investimenti fatti da una generazione che oggi ha 60 65 anni e che ha preso le aziende in gestione dai propri genitori genitori che avevano costruito le aziende sulla base dell'idea del risparmio contadino della prudenza in qualche maniera e si sono trovati catapultati proiettati dentro l'idea che non devi fare più il contadino non devi fare più l'agricoltore se sei un imprenditore e l'imprenditore è quello che va in banca si indebita investe guardate io ho girato tutta l'agricoltura del Mediterraneo l'agricoltura dell'Europa vi devo dire che in quegli anni stiamo parlando degli anni 90 gli agricoltori italiani sono stati quelli che più hanno investito in innovazione di processo di prodotto in un modello devastante devastante ma gli è stato detto di fare così e il risultato di quel modello è un grande indebitamento di quelle aziende quella generazione è piegata i loro figli oggi invece ritornano in campo con una grande voglia di futuro fatevi i giri nei presidi e vedete quanti giovani sono dentro oggi quella 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 esperienza naturalmente è un movimento non è ancora un movimento è stata una reazione di pancia una generazione questa generazione ha portato dentro l'entusiasmo la voglia ma anche l'inconsapevolezza la mancanza di cultura politica la mancanza di esperienza l'ingenuità come la chiamava prima Monica esposta a mille strumentalizzazioni senza avere un'idea precisa di dove si stesse andando e quindi quella nelle campagne italiane fra gennaio febbraio fino a febbraio è stata soprattutto una reazione di pancia in qualche maniera con una caratteristica anche molto diversa da quelle del nord Europa intanto perché le agricolture del nord Europa quelle continentali sono state più garantite rispetto all'agricoltura mediterranea qui apriremo un ragionamento non oso nemmeno entrarci dentro naturalmente ma poi come avete visto nelle mobilitazioni del nord Europa tutte le organizzazioni professionali agricole del nord Europa erano dentro le mobilitazioni degli agricoltori qui voi sapete perfettamente cosa è accaduto è accaduto che a metà gennaio il presidente della Coldiretti sosteneva tutto bene madama la Marchesa in Italia non può accadere quello che è accaduto a Bruxelles in Germania con i trattori nelle strade perché per fortuna c'è la Coldiretti e qui in Italia non c'è la crisi perché per fortuna c'è la Coldiretti i fatti hanno smentito clamorosamente questa lettura che ha dietro cui la politica in questi anni si è sempre nascosta dietro con un ruolo delle organizzazioni professionali che in realtà è servito a fare da ciambella di protezione fra le istituzioni e la società facendo da pompiere garantendo che tutto andava bene lucrando sulla crisi e questo è uno degli elementi di estrema novità di questa di questa nuova situazione ora dentro questo quadro dentro questo quadro di estrema interesse naturalmente noi paghiamo tutti appunto il fatto che a questo entusiasmo non si accompagna come dire il progetto la consapevolezza salto è inevitabile quindi che e anzi io lo ritengo persino salutare che di fronte a quello che sta accadendo si mettono in campo modelli diversi e proposte su come si esce dalla crisi su come si costruisce un movimento e come questa forza che si sta esprimendo nelle campagne in realtà diventi un movimento capace di incidere nei comportamenti sociali e capace di spingere la società e la politica verso soluzioni utili ci sono state avete ragione l'avete notato bene proposte diverse noi abbiamo sempre rifiutato per esempio di condividere i luoghi gli spazi le iniziative con quanti per esempio hanno gridato più che altro all'idea di voler avere le mani libere senza lacci e lacciuoli contro il green come se prestandosi in qualche modo prestando il fianco all'idea che questa mobilitazione è fatta perché ci sarebbero le politiche di riconversione ambientale che vengono imposte agli agricoltori uccidendoli noi invece abbiamo guardato molto bene e c'è una gran parte di un movimento che si sta sempre più riconoscendo in questa impostazione che gli agricoltori sono i primi ad avere l'interesse a partecipare di una gestione del territorio agroecologica e di riconversione ambientale che sono i primi che ne pagano tra l'altro i prezzi non solo perché oggi con i cambiamenti ambientali prova a fare diciamo un piano di semina senza esporre i tuoi investimenti e il tuo lavoro ai problemi che ti conseguono direttamente così come non abbiamo condiviso per nulla per fortuna in tanti non hanno condiviso l'idea che questo movimento dovesse come dire gridare alla rivoluzione contadina non perché non ci sia bisogno di contadini e di rivoluzioni ma perché le rivoluzioni sono una cosa seria i cambiamenti di cui abbiamo bisogno devono fondare su un progetto su una condivisione nella società e non basta alluccare al vento per conquistare lo spazio di un microfono davanti alla televisione e quindi conquistare la legittimazione perché i media ti scelgono come l'interlocutore utile l'utile idiota molto spesso al mainstream di turno e allora cosa è accaduta vado direttamente a dirvi che cosa sta accadendo di un pezzo di questa esperienza tre settimane fa quattro settimane fa adesso non ricordo bene alla città dell'altra economia cinque delle realtà che non solo hanno partecipato alle mobilitazioni ma che si sono anche ritrovate intorno a un elemento comune che è quello di condividere il tavolo di confronto con la politica tra queste e altra agricoltura il movimento riscatto agricoltori italiani i pastori sardi il movimento popolo produttivo abbiamo convocato alla città dell'altra economia un incontro da cui è nato in un incontro importante oltre 250 persone presenti provenienti da tutti i presidi d'Italia abbiamo deciso di far nascere il coordinamento agricoltori e pescatori italiani questo è un altro elemento importante i pescatori stanno irrompendo nelle iniziative li vedrete presto con una forza che spesso noi non conosciamo perché sono una realtà davvero molto segnata in questo momento da una crisi profonda e da la mancanza di una prospettiva e di futuro questo coordinamento si è ritrovato poi qualche giorno fa dieci giorni fa a Piazza del Campidoglio per una manifestazione che in realtà è stata un'assemblea con 4-500 persone in Piazza del Campidoglio e ha deciso un passaggio in avanti che stiamo proponendo abbiamo appena finito qualche minuto fa come vi dicevo un incontro operativo per mettere in campo l'idea quale idea quello di passare una fase nuova della mobilitazione una fase che ci vede lavorare nei territori ci vede dismette in qualche modo questa idea un po' surreale di andare a Roma per fare l'assalto al potere che pure è vissuta nei mesi scorsi come l'idea di cambiare tutto e subito semplicemente sull'idea che tu c'hai ragione e invece andare nei territori a costruire una mobilitazione che ha tre obiettivi noi puntiamo a cento giorni l'abbiamo chiamata questa cosa la stiamo chiamando così vedrete subito dopo Pasqua partiamo cento giorni per salvare l'agricoltura e la pesca e riaprire la speranza è l'idea di fare cinque giornate nazionali in tutti i territori dove riusciremo ad arrivare chiamando i presidi le realtà sociali le esperienze di base i consumatori i cittadini insieme agli agricoltori i pescatori le organizzazioni anche di base dei lavoratori intorno a qual'idea intorno all'idea che di fare cinque giornate unificanti di livello nazionale sui cinque temi che stiamo facendo portando al tavolo nazionale di confronto si so che devo chiudere il devo facciamo girare la parola devo stringere devo stringere stringo stringo scusami devi finire devi finire perché già il tempo è le cinque giornate saranno finisco qui le cinque giornate saranno settantacinque giorni di mobilitazione più l'idea di lanciare una campagna nazionale per la nuova riforma agraria e dell'agroalimentare intorno a un percorso di questo tipo stiamo provando a far valere l'idea che la reazione spontanea dei trattori si trasformi in un movimento alleato con la società per la riforma la sovranità alimentare ok allora molto interessante quindi uno spaccato delle proteste che comincia a organizzarsi passiamo la parola a Nicola Pagani che come presidente di Dea Fallong ci dice intanto Dea Fallo di cosa si occupa e poi appunto come abbiamo letto un vostro comunicato stampa dei giorni scorsi un po' la vostra posizione rispetto a queste proteste da quello che mi pare di capire rispetto a quello che dicevano in massimedia che alla fine il problema era il gasolio il prezzo del gasolio nei giorni in cui si lamentano soprattutto in Germania perché c'è il prezzo del gasolio che vogliono togliere i sussidi allora il problema stiamo vedendo che è ben più ampio rispetto al prezzo del gasolio rispetto anche al problema che si diceva che gli agricoltori vogliono che non si tolgano i pesticidi che la comunità europea non blocchi l'uso non è veramente così stiamo vedendo che invece il problema è molto più ampio e più complesso la parola a Nicola Pagani Dea Fallong grazie grazie Vincenzo dunque sì parto dalla cercherò diciamo diciamo dopo gli interventi di Monica e Gianni in cui sono emersi ti puoi avvicinare? non si sente? è un po' piano si sente ok così mi sentite meglio? non è cambiato molto non è cambiato molto provo a togliere l'avvicolare allora aspetta può essere sia questo e ora no ora si sentiva forse ti sei girato girando si è sentito è maricolare per cui può essere vabbè e adesso si sente va bene dunque dagli interventi dagli interventi di Monica e di Gianni sono emersi aspetti molto importanti difficile aggiungere qualcosa e soprattutto non essere non essere d'accordo con gli spunti provo a rispondere comunque alla domanda che ponevi all'inizio ma chi è Dea Fallo? scusa intanto risponde perdonami Dea Fallo è una ONG di cooperazione allo sviluppo noi nasciamo oramai molti anni fa diciamo una quindicina circa in cui con progetti di cooperazione all'estero ci occupiamo di sviluppo rurale e in questi progetti nel ormai 2008 2009 abbiamo incontrato l'agricoltura rigenerativa in America Latina lo abbiamo fatto attraverso un progetto e una missione a Cuba un progetto in Messico e una missione a Cuba e poi negli anni abbiamo diciamo così cercato di portare queste esperienze che avevamo fatto all'estero in Italia le abbiamo portate in Italia e poi elaborato qui una serie di esperienze con gli agricoltori italiani e quindi ha adattato in qualche modo questa esperienza e queste pratiche al territorio italiano e alla cultura italiana e poi abbiamo diciamo così anche avviato un processo che da quello che era quindi un'esperienza sud-nord a differenza del solito approccio della cooperazione nord-sud abbiamo ribaltato un po' il paradigma cioè appreso delle esperienze nel sud del mondo e portate in quello che era considerato il nord del mondo lo abbiamo invece abbiamo attivato un processo di esperienza sud-sud e di cooperazione sud-sud perché siamo andati in Africa e lì abbiamo diciamo messo a confronto queste esperienze latino-americane con il contesto africano ormai da molti anni pratichiamo l'agricoltura regenerativa qui in Italia e attraverso attività di formazione e di supporto alle aziende agricole questo è diciamo adesso siamo recentemente in virtù anche di tutti in una serie di aspetti che sono emersi pure dagli interventi di Monica e di Gianni abbiamo sentito la necessità di consolidare l'esperienza italiana e come è stato a un certo punto detto dare la parola lo rilevava Monica dare la parola a chi sulle politiche agricole a chi ce la deve avere cioè gli agricoltori e abbiamo dato vita abbiamo promosso insieme ad altre aziende la nascita della prima associazione nazionale sull'agricoltura organica rigenerativa diciamo De Afal in pillole in estrema sintesi e io in realtà volevo partire dalla domanda che ponevi se non ci sono altre curiosità sulla nostra organizzazione passiamo alla doppia le proteste hanno un fondamento direi senza ombra di dubbio sì e questo perché chiunque si vede corrispondere un prezzo per il proprio lavoro che è inferiore ai costi che ha sostenuto a piena e assoluta dignità a protestare quindi fughiamo ogni dubbio la protesta di chi non arriva evidentemente col proprio lavoro a poter come si suol dire alla fine del mese è sempre legittima ok sono stati già indicati i dati di contesto allora abbiamo prezzi dei prodotti agricoli che negli ultimi due anni si sono ridotti del 10% a fronte di un aumento dei costi di produzione è stato già messo in evidenza fattori produttivi attrezzature agricole semi sono in mano a pochi gruppi dall'altra parte la commercializzazione è in mano a una distribuzione sempre più forte a gruppi di grandi distribuzioni sempre più forti sempre più concentrati e in mezzo ci sono i produttori produttori che inevitabilmente qualcuno faceva riferimento alle esperienze di molti anni anni fa Gianni faceva riferimento evidentemente a quello che è stato un po' il percorso suo e beh vi posso confermare purtroppo vorrei vorrei dire che non c'ero ma c'ero anch'io in quegli anni 25 anni fa il consorzio per il Clementino di Calabria lamentava il fatto la dottoressa Cefali compianta dottoressa Cefali con la quale io avevo modo di confrontarmi la presidente del consorzio lamentava il fatto che il prezzo delle Clementine Franco-Porto importate era inferiore al costo di produzione delle loro Clementine ancora sugli alberi cioè ancora prima della raccolta eravamo 25 anni fa cioè di questo stiamo parlando cioè stiamo parlando di un sistema che conosce una crisi che ha radici molto profonde molto lontane nel tempo la dipendenza dai fornitori e la come dire la mancanza di potere di acquisto di potere di contrattuale rispetto evidentemente a chi acquista il prodotto è un elemento che è andato intensificandosi sempre altro dato di contesto altro dato di contesto un terzo del budget dell'Unione Europea va in agricoltura cioè non sono pochi soldi ok piccolo particolare che l'ottanta per cento di questo va al venti per cento delle aziende agricole allora voglio dire di che cosa stiamo parlando i soldi ci sono ok il problema è come sono spesi il problema è a chi questi soldi sono indirizzati evidentemente non ripeto quello che è stato già detto però è chiaro che un processo perché si è parlato di innovazione diceva bene Gianni un'innovazione che in realtà ha impoverito poi le aziende perché perché gli agricoltori a fronte di questo percorso negli ultimi venti trent'anni che cosa hanno fatto hanno cercato di aggregarsi hanno cercato di unirsi cioè hanno cercato di creare massa critica nei confronti di questi attori altri attori che erano i loro fornitori o i loro acquirenti ma per quanti sforzi possono aver compiuto ma come puoi combattere quando in realtà il prezzo te lo fanno due tre quattro gruppi della distribuzione e voglio dire che peraltro si aggregano pure in centrali di acquisto quindi non hai alcun potere contrattuale alcuno abbiamo fatto qualità abbiamo creato i consorzi abbiamo creato i marchi di tutela abbiamo fatto tutto quello che la politica agricola comunitaria ci diceva di fare perché bisognava sostenere e stiamo in questa condizione beh allora voglio dire non ci nascondiamo dietro a un dito è una crisi che ha radici profonde nel tempo e tutte le politiche i soldi spesi hanno portato a un'acuirsi di questi fenomeni a un'acuirsi questi fenomeni perché poi alla fine ripeto il punto nodale è se il mio prodotto lo metto sul mercato se quel prezzo che io riesco a spuntare sul mercato è in grado di riparagare tutti i costi e il punto è anche questo se io riesco a stare sul mercato solamente perché ho un sussidio perché il mio prodotto senza quel sussidio non starebbe neanche sul mercato beh allora c'è qualcosa che non funziona ma c'è tanto che non funziona allora il tema evidentemente è questo e mi viene da dire una cosa però perché il tema su cui stiamo dibattendo ovviamente non è la crisi dell'agricoltura ma sono le proteste allora noi ci siamo espressi e ci siamo espressi in una maniera credo abbastanza chiara evidenziando che cosa evidenziando che la soluzione di questo problema non può essere in un conflitto ed è quello che io temo cioè noi temiamo fortemente una cosa che diventi una lotta tra poveri e cioè che vengano messi vengono contrapposte due agricolture o dieci agricolture quando il problema non è tra gli agricoltori che non chiedono altro che quello che normalmente qualsiasi operatore economico chiede e cioè di poter vivere del proprio lavoro quindi la questione è il vero problema sta veramente nella transizione nel Green Deal nel Farm to Fork sta nel fatto che va riformata profondamente una politica che da una parte agevoli una transizione ma che dall'altra parte dia gli strumenti a tutti gli agricoltori per poter accedere a quel percorso di transizione perché non tutti hanno questa possibilità la dimensione delle aziende agricole è un elemento fondamentale e dato che noi stiamo ancora in un contesto agricolo in cui sebbene ci sia stato un aumento indiscutibile delle superfici i produttori in termini numerici non di superficie ma i produttori agricoli sono ancora di piccola dimensione se tu metti in piedi delle politiche che giustamente vanno in una direzione che è quello del Green Deal che è quello delle politiche verso un'agricoltura sostenibile anche da un punto di vista ambientale eccetera ma fai questo attraverso degli strumenti a cui possono accedere sempre e solo quel 20% tu non hai risolto il problema hai solo fornito ulteriori elementi ulteriori risorse agli stessi che possono accedere a quelle risorse non è stato toccato un elemento e forse potrebbe essere l'unico elemento in più che inserisco nella discussione e che è quello dei consumatori perché tutto questo processo che stiamo cercando di mettere in campo non fa i conti col fatto che la distribuzione a qualcuno vende ovviamente è chiaro che nel momento in cui io arrivo al supermercato storia di due giorni fa e trovo un'orata a 8 euro e 90 non la singola orata al chilo è chiaro che c'è qualcosa che non funziona no? Allora le cose sono due o i pescatori di quell'orata stanno morendo di fame ed è una prima ipotesi o quell'orata è deplastica e anche questa è una probabile ipotesi o comunque sia c'è qualcosa che non funziona e qual è però l'illusione? Ok? Io ho 57 anni a casa mia quando ero ragazzino il pesce era come dire un'eccezione cioè era una situazione in cui non dico si faceva festa ma non è che io mangiavo pesce tutti i giorni non è che io mangiavo carne tutti i giorni allora quello che voglio dire con questo è che c'è un elemento fondamentale che è quello dell'educazione al consumo l'educazione al consumo vuol dire lavorare perché tanto è la domanda che alla fine determina il successo anche di una politica di vendita e di una politica commerciale se tu non ti ritrovi a poter discutere con i consumatori e a sensibilizzare i consumatori verso un consumo giusto equilibrato e che valorizzi e che sappia cosa compra e sappia il valore di quello che compra il lavoro che c'è dietro quello che sta comprando è chiaro che la battaglia è persa perché perché nel momento in cui c'è qualcuno che si compra olio a 3 euro 4 euro e orate a 8 euro la distribuzione non è che fa fa un lavoro fa il lavoro del commerciante allora tutto questo evidentemente è per allargare ulteriormente la portata della riforma e la riforma che tutti auspichiamo del sistema agroalimentare e normativo e di sussidio e di supporto all'agricoltura deve avere il coraggio anche di parlare ai consumatori e di educare i consumatori verso una politica verso una politica di consumo verso uno stile anche di vita se vogliamo che sia adeguato questo è come dire l'elemento in più che mi faceva piacere introdurre diciamo che per il momento mi fermerei qua in attesa poi di eventuali altri allora grazie Nicola io mi sentite si si sente la ecco io a questo punto possiamo aprire a chi è presente quindi con delle domande o delle precisazioni quindi che può fare oppure richiediamo a Monica e a Gianni se ci sono degli elementi che vogliono aggiungere alla luce delle cose che sono state dette io volevo fare una domanda a tutte e tre velocissima o meglio la faccio dopo perché nel frattempo mentre parlavo l'ho dimenticata quindi per il momento mi fermo e quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire Vincenzo c'è anche Mario che è arrivato nel frattempo ah ecco c'era Mario Lopresti che avevamo invitato a partecipare e quindi chiedo insomma che se se lui intervenga e appunto non so se ha partecipato buonasera a tutti mi sentite perché sono in viaggio non so se ho abbastanza linea ecco perfetto tu sei una delle manifestazioni del 20 o del 22 ecco infatti stendiamo un bello pietoso del 20 del 20 ah del 20 ecco va bene allora dicci abbiamo iniziato questo incontro chiedendoci il senso di queste proteste e quindi se sono fondate dal tuo punto di vista quale quali sono le motivazioni forti che ti spingono a protestare perché tu sei stato uno dei protagonisti nella zona di Enna e poi secondo te come mai ci sono varie proteste ecco allora buonasera a tutti intanto sono Mario Lopresti un allevatore della provincia di Enna e allora sono un rappresentante del presidio di Taino e ha 60 giorni che siamo in presidio e allora la secondo me a prescindere tutto le proteste sono sempre motivate perché comunque vengono da un da un sentire di di un popolo quello che che ho visto io in questi in questi due mesi di protesta fondamentalmente è sempre la questione che l'ego umano ancora è talmente sviluppato da non permettere di fare veramente rete di dare la possibilità a chi lavora e a chi si sporca le mani di mettere in campo le proprie problematiche infatti a proposito di queste spaccature che ci sono all'interno delle proteste sia in Sicilia che comunque in Italia diciamo che è la stessa cosa nella penisola c'è sempre chi cerca di coordinare il leader colui che vuole spingere questa cosa io percepisco che all'interno degli agricoltori sono stanchi cioè sono stanchi di essere usati fra virgolette per qualche motivazione perché la base in realtà è che gli agricoltori stanno chiudendo ma veramente io sono qui a Dittaino e Dittaino è una zona di produzione di grano fondamentalmente aziende abbastanza grosse per il nostro territorio la media sarà di un centinaio di ettari ad azienda e stanno chiudendo ma realmente non arriveranno ai prossimi sei mesi penso quindi dico la protesta è motivata e come il problema è il problema è l'organizzazione della protesta secondo me che sta lasciando molto a desiderare poi secondo il mio punto di vista proprio personale non quello del gruppo che posso rappresentare io credo che questa sia almeno perché la sto facendo io questa battaglia io credo che non sia un problema dell'agricoltura onestamente cioè l'agricoltura è in crisi avrà un vent'anni che come hanno detto gli altri che mi hanno preceduto comunque queste problematiche se andiamo a guardare i tempi dei forconi in Sicilia erano le stesse cioè non è cambiato nulla praticamente la questione invece che è cambiata secondo me oggi è che c'è un'intera società in ginocchio cioè non è soltanto l'agricoltura non è che se andiamo a parlare con delle partite IVA di qualunque genere o con gli impiegati o con i pensionati c'è una condizione migliore quindi io personalmente questa secondo me l'agricoltura si sta prendendo la responsabilità in questo periodo storico di risvegliare gli animi e questa cosa di proprio far prendere consapevolezza a un popolo che è ridotto cioè non capisco come si faccia ad accettare comunque il livello a cui ci stanno portando o comunque dove siamo arrivati quindi la mia speranza personale è che che gli agricoltori siano proprio da monito per le altre categorie che ci sia una presa di coscienza reale del popolo poi ovviamente si può pensare dopo cioè nel senso ci vuole un'organizzazione ci vuole veramente una pianificazione se un popolo si ribella veramente di che cosa succederà dopo però secondo me i presupposti e le intelligenze ci sono per far sì che ci sia una presa di coscienza del popolo anche per questo sono contento che comunque anzi ero un po' dispiaciuto perché la filiera corta il mondo del bio o comunque tutto il mondo agricolo fra virgolette alternativo non convenzionale ecco più che altro era stato in silenzio perché io ritengo che quando fuoriescono delle voci se quella voce manca è logico che poi si può andare a finire che si si chieda l'utilizzo di pesticidi cioè ci vuole secondo me anche la pluralità delle voci dell'agricoltura che in questo momento si mettano in campo anche perché l'agricoltura secondo me serve anche da trampolino per far capire ai consumatori e a chiunque che comunque tutti viviamo di agricoltura e questa cosa negli ultimi anni è stato un pochettino rotta questo quindi spero che comunque il mondo bio il mondo della filiera corta prenda coscienza del fatto che crederci o non crederci secondo me conta la partecipazione cioè se partecipi puoi far sì che quella cosa non sia come te la stanno presentando anche perché i media comunque svolgono un ruolo nel far credere cose che non sono molto importante questo in linea di massima e tu come mai hai partecipato alla manifestazione del 20 e non a quella del 22 ecco allora io sono uno di quelli che ha puntato fino all'ultimo per far sì che ci fosse un'unità in questa cosa però purtroppo è questione di personaggi singoli che non sto qui a entrare nel merito perché non mi sembra il caso però è questione di persone che per cose passate le solite cose diciamo all'italiano o alla siciliana in questo caso dove io non ti posso vedere non mi fido di te tu hai interessi politici no tu sei Zulu no tu sei un volgare insomma è stato soltanto un qualcosa veramente misera quasi però in realtà facendo parte di un gruppo mi rendo conto che c'è una voglia dalla gente fra virgolette con una cultura diversa non ignorante ma con una cultura agricola di non farsi più dirigere quindi questi personaggi che fuoriescono anche i gruppi io sono contro c'era anche prima parlato con altra agricoltura secondo me la dovremmo finire di continuare a fare movimenti separati chi chiede ci vuole ognuno rimanga indipendente nel proprio territorio ma che si coordini per far sì che le voci fuoriescano tutte io ritengo questo personalmente bene allora non so se Monica voleva dire qualcosa facciamo intervenire qualcuno dei partecipanti io solo volevo leggere un brevissimo pensiero da un giornale che tempo fa scriveva agli agricoltori viene chiesto oggi molto sempre di più devono fornire prodotti agricoli alimentari preferibilmente a basso costo ma al tempo stesso salutari e rispettosi dell'ambiente devono fornire energia attraverso tra le altre cose le biomasse devono curare il paesaggio devono custodire diche e altre opere infrastrutturali già esistenti il mondo agricolo è stanco e spesso di fronte a politiche contraddittorie mi aveva colpito questo pensiero appunto il fatto che al mondo agricolo viene chiesto sempre di più però è sempre più relegato in un angolino dell'economia della società però appunto vogliamo sentire qualcun altro se vuole intervenire vai c'è Enzo l'Ivodi forse sì buonasera c'era pure Roberto però ha alzato la mano per rispetto e l'anzianità Roberto vai tu oh no vai vai tre minuti no Roberto a me prima le donne vabbè vabbè non perdiamo tempo in questo schermo io sono brevissimo uno Gianni è stato necessariamente interrotto nel momento in cui stava illustrando un attimo le cinque tematiche della mobilitazione e mi sembrerebbe interessante che anche schematicamente ce le accennasse mentre io volevo collegarvi a quello che dice Nicola nel termine del suo intervento sul ruolo appunto dei consumatori in tutto ciò i consumatori diventano strumento inconsapevole di questa politica che schiaccia gli agricoltori credo che sia compito di questo movimento della nostra la possibilità della sopravvivenza degli agricoltori fare mettere tutti gli sforzi possibili nel fare in qualche modo cultura spiegare in essi che esistono tra appunto una produzione agricola rispettosa e la qualità dell'ambiente e così via e che facciano vengano in qualche modo agevolati nel fare delle scelte un po' più consapevoli l'esperienza e il successo se vogliamo dire delle galline felici racconta abbastanza testimoni abbastanza in questo senso e niente quindi mi sembra che questo sia un aspetto fondamentale perché la possibilità che abbiamo di incidere sulle scelte politiche sappiamo bene che è abbastanza modesta nel senso che ci sono appunto tutti i potentati che ci sono stati illustrati la possibilità che il consumatore faccia delle scelte che diano potere al suo portafoglio ehm si dà uno spiraglio in più che potrebbe essere determinante non mi dilugo perché non è il caso Enzo Sì buonasera grazie Roberto e grazie a tutti eh beh cosa dire io da tre anni ormai sono due anni che sono socio di Gallini ho visto un mondo completamente diverso io ahimè lo dico a bassa voce sono purtroppo presidente della CIA la Confederazione Italiana Agricoltori che stiamo vivendo in prima persona questa manifestazione queste manifestazioni e queste proteste io volevo dire solo una cosa ehm anche in Cia ci sono state varie varie discussioni se queste proteste andavano bene io dico sempre il malanno dell'Italia dal punto di vista dell'agricoltura sono i sindacati e non solo nonostante io ne faccia parte e faccio una considerazione il consorzio e qui in primo piano Roberto che è veramente la persona insieme ad altri che hanno fondato questo ha creato una cosa che forse ehm io l'ho definita o si è definita non so a dove è venuto questo termine è la cosiddetta PDO la piccola distribuzione organizzata non so Roberto se un tuo termine è venuto fuori da qualcosa la piccola distribuzione organizzata eh che si è perché sostanzialmente io sono un agricoltore un contadino scusatemi e mh il concetto è il reddito in campagna parliamoci chiaro tutti dobbiamo mangiare tutti dobbiamo pagare le bollette eh con tanta filosofia non si va da nessuna parte però la capacità di Galline di aver creato questa piccola distribuzione organizzata non in contrapposizione alla GDO perché chiunque si metta contro la GDO sicuramente o la picco ma ha detto signori ci sono dei canali alternativi a quello che è la eh Roberto ha parlato di potere al portafoglio in sostanza eh dove tu puoi comprare un prodotto sano un prodotto mh dove gli agricoltori rispettano l'ambiente attraverso l'agricologia attraverso siamo custodi del territorio diamo non ci contrapponiamo alla GDO noi diciamo siamo un canale parallelo di vendita e diamo dignità di nuovo all'agricoltore perché l'agricoltore deve essere messo di nuovo al centro dell'agricoltura e questo è quello che ha fatto ha rimesso l'agricoltore al centro dell'agricoltura per una ridistribuzione del valore economico lungo la filiera e questa è la cosa importante cioè noi abbiamo rimesso ma al di là del costo ma proprio la dignità io prima di conoscere Galline tornavo a casa con la testa china e questo è il discorso io ho cominciato a rialzare la testa ma non solo dal punto di vista economico dal punto di vista della mia dignità io non sto lì adesso a inseguire il contributo a GEA il contributo del biologico a chiamare questo quell'ufficio mio figlio anni fa mi ha detto papà io non vengo in agricoltura mio figlio ha 32 anni adesso io non entro in agricoltura perché ti vedo senza dignità ma non senza dignità per il lavoro perché sei lì a dell'emosinare i tuoi soldi i tuoi sacrifici e questo è quello che ogni tanto io nelle riunioni e nell'assemblea nazionale dico no Galline è riuscito a fare tutto questo il consorzio noi noi io adesso posso dire noi prima dicevo poi adesso noi abbiamo fatto tutto questo abbiamo ridato dignità a un compagno le proteste possiamo stare io ho tanti punti che si possono dalla PAC nessuno ha nominato la PAC però sappiamo che cosa è successo e che cosa è avvenuto ma non è quello noi andiamo in altre direzioni noi coltiviamo la terra come bravi custodi del territorio grazie grazie Emilio Enzo Enzo hai toccato un punto importante che è la PAC appunto se ne parlava prima diceva Nicola l'ottanta per cento della PAC va al venti per cento delle aziende e qualcuno diceva forse lo diceva sempre lui nel momento in cui le aziende sopravviviamo perché abbiamo il sussidio abbiamo il contributo siamo dei falliti perché il sussidio serve proprio per non ci fare accorgere che siamo sotto costo lavoriamo sotto costo quindi il problema è riuscire a uscire da questa morsa del sussidio che ci viene la compensazione cosa si compensa si compensa un prezzo che ci fa ridere e allora l'inganno sta proprio lì io ho fatto sono anche agronomo ho fatto anche le consulenze dicevo se non la finiamo col chiedere questi contributi che sono le elemosine che ci servono proprio perché loro ci tengono buoni con queste elemosine se non la smettiamo e pretendiamo una dignità come dicevi tu poi la dignità pare che ce l'abbia dato una direttiva comunitaria che dice non bisogna vendere sotto costo bene in Italia è stata recepita da un decreto che forse Gianni Fabri si conosce meglio di me il 198 del 2021 che praticamente pare che sia una trappola nel senso che impone questa norma ai consorsi alle cooperative di cui fanno parte i produttori ma i produttori possono vendere sotto costo non possono vendere sotto costo i consorsi le organizzazioni degli agricoltori anche le OP le OP devono vendere rispettando questa norma ma gli agricoltori no chi ha inserito questo cavillo questa postilla nella norma ma è un criminale perché ha vanificato tutto una direttiva che poteva avere un senso ora vorrei sentire qualcuno di voi su questo argomento scusami inserisco gli ecoschemi non so se tu che sei un agronomo conosci gli ecoschemi che hanno inserito vai a rivedere tutti quelli che sono gli ecoschemi e poi mi dirai allora c'era Nicola che c'era Elena a Milano ha scritto nella chat c'è un pensiero di Elena Milano lo potete leggere voi stessi allora che stava intervenendo volevo sostanzialmente chiedervi il sento critiche da molte parti però è raro trovare una controproposta coerente no su nel modo di raggiungere ad esempio piccoli piccoli produttori eccetera arrivando comunque senza penalizzare magari la produttività anche perché magari il piccolo non è necessariamente caratteristica cioè non sei necessariamente bravo o protettore dell'ambiente eccetera credo che dipenda no quindi quale sarebbe il set di criteri che uno proporrebbe per per cambiare la politica di dei sussidi che sì sussidi o incentivi insomma per renderla secondo voi positiva non so chi vuole rispondere non vorrei io se vuoi posso posso dire due cose allora la prima reagivo un attimo alla a uno degli interventi che mi ha preceduto quando si parlava appunto di alleanza con i consumatori è il problema amici miei però è che in Italia negli ultimi vent'anni i redditi si sono contratti del 30% quindi o noi riusciamo a costruire sui territori delle alleanze che come diceva Roberto ridiano valore anche ai soldi di compra altrimenti l'unica soluzione è il discount ma non è una questione di come dire non è soltanto per chi come me è in città e quindi è un problema proprio di valorizzazione e questo è chiaro che poi noi facciamo tantissima formazione consumatori perché per esempio le vecchie si spendono mezza pensione su grattevinci eccetera 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 c'è anche tutto un tema della dimensione psicologica dell'acquisto che va comunque ridimensionata e che va ridimensionata nel senso riorientata ed è possibile farlo però noi abbiamo in questo paese un problema di povertà il 50 il 46% delle persone di questo paese paga le tasse gli altri stanno sotto ora io non penso che noi siamo un paese di mandrake che riescono tutti quanti a far sparire i propri redditi è vero che c'è una parte di come dire di evasori sostanziosa ne escono sempre tutti i colori eccetera però noi abbiamo un problema in questo paese di povertà e questa povertà è trasversale e va dal lavoratore fino al contadino e su questo io sono molto d'accordo con quello che diceva chi mi ha preceduto delle che ha partecipato alle proteste siciliane cioè che c'è stata una mancanza è vero il mondo diciamo del biologico il nostro mondo quello più vicino a me eccetera ha fatto parecchi il passo indietro io ho sentito anche molte organizzazioni che prendevano in giro i contadini dicendo ah però questi addirittura alcuni delle nostre aree che dicevano eh però quelli non sono i contadini sono i padroni dei braccianti hai visto hanno i trattori da 120 mila euro cioè gente che non conosce quel mondo che non lo conosce perché altrimenti saprebbe che uno dei più grossi uno dei pochi modi per avere dei soldi negli ultimi anni in campagna è stato partecipare alle varie campagne di ammodernamento no e quindi avere i trattori cambiare il trattore era uno dei pochi modi anche per avere degli altri soldi eh con i quali un po' se comprova il trattore un po' si faceva altre cose un po' ci si indebitava quindi questo secondo me è e sono sono contenta che diciamo l'esperienza che sta facendo Gianni parla ai territori perché questo è il momento invece di come dire ripartire da esperienze come quella delle galline che ha all'interno il tema del recupero del reddito e il tema anche della giustizia nei territori molto forte e molto chiara della dignità molto forte al suo interno perché questo è quello di cui c'è bisogno adesso cioè il tema vero profondo è una realfabilizzazione democratica di questo paese è vero che questo è un paese che sta sopportando l'insopportabile ed è vero che noi arriviamo a questo perché ci stanno facendo fare la fine della rana bollita cioè noi siamo dentro una come dire un'acqua tiepida che diventa sempre più bollente diciamo distratti da mille narrative diverse da mille proposte miracolose da mille sirene che poi non hanno introdotto nessun tipo di cambiamento pratico e concreto che ci coltiva divisi che appunto ha coltivato l'individualismo ha molto penalizzato l'organizzazione lo stare insieme anche proprio la cultura politica non partitica cioè la cultura politica diffusa e contro la quale noi in questo momento dobbiamo risalire cioè ricordatevi quello che è successo durante la pandemia se andavi a correre la gente ti faceva la spia perché andavi a correre al letto delle scelte personali cioè questa che io chiamo strategia del conflitto orizzontale cioè quella di metterci l'uno contro l'altro perché così non abbiamo modo e energie per organizzarci e colpire veramente chi dobbiamo con le scelte di consumo con le scelte di organizzazione con le scelte diverse anche di produzione e anche appunto grazie a delle modalità di di agroecologia togliendo reddito e affari lucrosi alle grandi aziende che invece ci vorrebbero soltanto meccanizzare e tecnologizzare ecco se noi non ci organizziamo e non riproviamo a come dire a rialfabetizzarci sentiamo alcune cose non è vero che i piccoli contadini non sono bravi cioè questa è un'altra delle grandi balle che tutti raccontano il l'agricoltura di piccola scala sfama il 70% degli abitanti di questa terra e anche nel nostro paese il cibo che viaggia a lungo è pochissimo la maggior parte del nostro già il dato non è scusa scusa Monica ti intero non so se stavi riferendoti a quello che dico io quando ho detto non bravi non intendevo nel senso di quantità di produzione a parte che quella cifra è a livello mondiale no intendevo più che altro come implementazione di pratiche sostenibili eccetera eccetera non è una garanzia la dimensione non è una garanzia eh ma sicuramente se tu pure tu metti per terra la fogna è chiaro che non la fai la pianura padana e il problema è che invece la colpa te la collano a te e tu non hai proprio per come dire ormai per cultura diffusa l'idea di quelle che sono veramente le proporzioni le proporzioni dell'inquinamento le proporzioni della della produttività non è vero che l'agricoltura industriale è più produttiva che le rese sono più alte cioè non è vero e questa conoscenza che adesso poi mi chiedo perché perché se no monopolizzo la discussione però questa conoscenza è fortemente colonizzata da tutta una serie di fonti e di narrative che non sono corrette dal punto di vista statistico cioè istat ismea non dal punto di vista ideologico perché a me dell'ideologia non me ne frega niente non sono manco romantica non mi importa niente però dal punto di vista proprio del quantitativo non sono corrette e quindi o noi diciamo riusciamo a riappropriarci di quello che è un orgoglio ma non è soltanto un orgoglio sentimentale è proprio la natura dei fatti della produzione nel nostro paese oppure cioè abbiamo interiorizzato questo senso come cittadini come produttori eccetera di minorità che non ci permette poi di arrivare a raggiungere i risultati che vogliamo e che ci sono che sono necessari perché questi non è che sono cose che noi cioè le quali noi ci impegniamo perché non abbiamo da fare lo facciamo perché pensiamo che sia fondamentale cioè o facciamo questi cambiamenti oppure dopo domani non ci sarà più cibo per tutti basta allora abbiamo tre prenotazioni in ordine però scusa io non ho nessuna risposta adesso non so se Monica volevi rispondere o era una risposta a quelli di prima in termini di criteri eccetera ma i criteri sai l'agroecologia ce l'ha cioè lo lascio magari a Deafal che per esempio è più forte nei progetti sul territorio però voglio dire la questione dei criteri noi ce ne abbiamo siamo pieni siamo pieni e disciplinari di criteri di fondamenti c'è l'economia solidale c'è una carta tutte le varie realtà del biologico c'hanno delle carte c'hanno tutte queste realtà hanno sviluppato decenni di ormai di di saperi non ci dobbiamo inventare la ruota cioè sta tutto lì il problema è che dobbiamo condividerli e dobbiamo far sì che diventi patrimonio più comune di quello che è adesso su questo sono assolutamente d'accordo però non c'è non c'è niente di più o di meglio che possiamo fare rispetto a quello che ci abbiamo già ok abbiamo 15 minuti più o meno perché abbiamo che abbiamo detto che finiamo alle 20 quindi per favore provate a fare dei interventi più concili possibili vorrei rubare 15 minuti e quindi finiamo alle 20 e 15 se è possibile lo facciamo intervenire Gianni che deve andare via se è possibile vi chiedo scusa io ho un altro incontro alle 20 e quindi vi chiederei un attimo di poter intervenire naturalmente dico una sola cosa sulle ultime questioni che ho ascoltato poi proverò anche sollecitato a mettere in campo quello che diciamo i punti su cui stiamo provando a costruire un movimento unitario l'osservazione che faccio è solo questa noi abbiamo un modello dell'agricoltura che è diventato in realtà quello maggioritario un reparto all'aperto della produzione industriale contraddetto per fortuna da tante esperienze che tentano di svincolarsi alcune ci riescono come quello delle galline pericine naturalmente e però teniamo tutti un problema il problema che teniamo che non è culturale però è molto concreto se noi non riusciamo a contaminare i percorsi e i processi in atto in questo momento delle esperienze di tutti noi abbiamo tutti un problema corriamo il rischio di essere come dire solo testimoniali quindi l'osservazione il punto di prima di un movimento avanzato dell'agroecologia che esiste in Italia e che però sta lì un po' a guardare è una grave responsabilità invece noi abbiamo da far valere una questione si chiama sovranità alimentare questo è il terreno su cui noi dobbiamo costruire il punto di superamento della crisi e la sovranità alimentare è il terreno perché non è il tema degli interessi dei contadini a guadagnare di più o ad avere garantito per esempio il proprio reddito ma è il diritto dei popoli a determinare il proprio modello di produzione distribuzione fruizione del cibo e del territorio chi produce come produce e questo si fa solo se riusciamo a determinare un'alleanza è su questo elemento che si può costruire oggi questa base l'alleanza per questo io dico anche non ricordo mi perdonerà chi è intervenuto prima dall'allevatore di Taino e che però dobbiamo decidere cosa vogliamo fare l'unità non nasce per caso e l'unità non nasce perché facciamo la somma matematica di quelli che stanno oggi pronti a scendere in campo l'unità si fa sui progetti si fa sulle scelte e l'unità si fa sull'alleanza con la società per questo oggi o avviene questa operazione di mettere insieme i soggetti intorno al progetto di qual è l'agricoltura e l'agroalimentare che vogliamo qual è oggi il modello agroalimentare di cui una società che è quella che avete descritto voi che ha mille altri problemi oggi sceglie di incamminarsi e allora dicevo prima che noi stiamo provando a costruire su questo terreno un'esperienza l'esperienza come dicevo è quella di provare a costruire il movimento in cento giorni nei territori saranno cinque giornate una ogni due settimane quindi saranno settantacinque giorni sui cinque temi che stiamo portando al tavolo di confronto con il governo che è già aperto con la politica e con il governo e i temi sono quindi immaginate una giornata per ognuno di questi temi sono la questione del controllo del mercato servono regole al mercato servono regole capace di invertire i processi dal dumping garantire no alle aree di libero scambio no agli accordi commerciali quando sono fondate sulle disparità ineguali i controlli sulle relazioni commerciali questo è il primo grande tema il secondo tema è quello del reddito naturalmente delle aziende in cui abbiamo un problema di garantirci come si fa a non scendere sotto i costi produttivi nel saldo finale della nostra stagione agraria e qui il tema della PAC che era nato come sistema di welfare che doveva bilanciare le questioni e poi è diventato uno strumento per acuire invece allargare le differenze è uno dei temi centrali il grande tema dell'indebitamento delle aziende agricole su cui da decenni i movimenti rurali si stanno battendo ormai è arrivato il momento diciamo di affrontare questo nodo del fallimento del sistema non del fallimento delle aziende la grande questione del rapporto fra il diritto a produrre e quindi il diritto dell'impresa a produrre e il rapporto con l'ambiente e con il territorio il punto è ovviamente gli agricoltori devono e i pescatori devono essere partecipi di una grande operazione di risanamento e di riconversione ambientale il punto è che quella roba non può essere fatta contro le imprese soprattutto le piccole e medie imprese e contro i pescatori artigianali i trasformatori artigianali e per favorire le lobby dell'energia della speculazione della chimica l'ha fatto con loro per aiutare un processo di reinsediamento noi pensiamo a un grande piano per reinsediare l'attività del territorio e interrompere la desertificazione anzi invertire i processi di desertificazione rurale e costiera in questo paese e poi c'è una grande questione che è quella della democrazia sindacale della democrazia della rappresentanza che non è altra cosa non può esserci riforma dentro un sistema bloccato in cui gli allevatori gli agricoltori i pescatori sono espropriati del delitto a esercitare liberamente la propria rappresentanza insieme al grande tema della sburocratizzazione che sono due facce della stessa medaglia perché su questo mondo pesa un apparato elefantiaco di burocrazia funzionale allo strumento che deve garantire il blocco degli interessi di chi specula spesso con le organizzazioni professionali c'è un sesto tema che è quello della pesca su questo noi stiamo preparando 5-6 giornate di mobilitazione nazionale che non si faranno a Roma ma si faranno nei territori e che parlano a tre soggetti parlano a noi al mondo degli agricoltori e dei loro alleati perché se queste giornate saranno fatte solo dagli agricoltori senza la società solo dal pezzo degli agricoltori in crisi senza i lavoratori senza la società saranno una sconfitta se invece riusciremo a costruire gli elementi della relazione dell'unità saranno un passo in avanti parleremo con queste giornate questo è il progetto alla politica perché nel frattempo su quei cinque temi più la pesca abbiamo il tavolo tecnico-politico con il governo chiunque vada lì va a perdere tempo a fare le passeggiate se invece fuori non ha un movimento che preme l'idea alla fine di tutto questo è di ritrovarci per decidere come chiudiamo questi cento giorni e stiamo pensando di chiuderli con una manifestazione unitaria che lanci una grande questione in questo paese è arrivato il tema della nuova riforma agraria e dell'agroalimentare stiamo lavorando intorno all'idea che sulla base dell'agroecologia e della sovranità alimentare possa partire un processo che coinvolga la società naturalmente e le istituzioni io credo che è uno sforzo ci stiamo provando se riusciremo a incontrare la disponibilità non solo degli agricoltori che stanno in questo momento in mobilitazione ma anche dei cittadini e dei tanti che sono coinvolti nell'agroalimentare che finora magari sono state a guardare io penso che questo moto di pancia popolare può avere un'evoluzione utile verso il sostegno di un progetto di trasformazione sociale nelle campagne del nostro agroalimentare questo era il mio contributo io grazie ti chiedo scusa tra 5 minuti bellissimo contributo tutto questo che tu hai detto è scritto in qualche documento andate sì andate allora si aderisce allora andate in un sito intanto altraagricoltura.net vi invanderò le cose però andate nel sito dove stiamo caricando tutti i materiali di questa cosa che è coapi cioè coordinamento agricoltori pescatori italiani coapi punto sovranitalimentare punto it li stiamo raccogliendo i materiali i documenti le proposte le cronache l'agenda delle iniziative che abbiamo in campo ok grazie per il tuo contributo sei stato perdonatemi per questa modalità io non so come ho 20 persone che mi aspettano da un'altra parte per il direttivo nazionale di altra agricoltura ciao in campo grazie c'era Nicola e Marina che volevano dire la loro intanto per chi è rimasto e chi è entrato dopo devo dire questi incontri magari non ha partecipato a quello che ha detto prima Irene questi incontri sono organizzati dal consorzio siciliano le galline felici e quindi sono incontri diciamo culturali che abbiamo iniziato con questo evento online ma pensiamo di proporne degli altri in presenza questo incontro come si diceva prima se è assortito l'interesse e a mio avviso l'assortito dovrà essere ripetuto lo ripeteremo in presenza a maggio in un sabato di maggio e quindi le persone che hanno partecipato se vogliono lasciare il loro diciamo il loro indirizzo email possono essere ricontattate dopodiché passo la parola a chi a chi la voleva c'era Marina Nicola mi pare si è fermato puoi parlare ma sì giusto per chiarire alcuni aspetti e cercare di dare un contributo anche alle domande che ci sono state e diciamo mi riferisco anche agli interventi di Enzo di Roberto e poi insomma quelli di Monica un po' tutti hanno toccato questo aspetto no? i romani dicevano dividi e timpera no? e lo sappiamo bene che cosa cosa intendessero e qui abbiamo due due attori come è stato detto no? e le abbiamo in qualche modo ne abbiamo parlato e sono i consumatori e i produttori ecco il rischio enorme e più che il rischio secondo me è una precisa intenzione è quello di arrivare a dividere no? i consumatori da un lato tra quelli che si possono permettere un'agricoltura e quindi la salute e quelli che non se la possono permettere Monica parlava mi sembra Monica dei discount cioè della deriva no? di un sistema che porta poi inevitabilmente a a a a fare acquisti compatibili allora il punto è pensare ad un'agricoltura come cerchiamo di promuovere noi e stiamo qui riuniti e e tanti altri insieme a noi e di qualità eccetera eccetera non deve essere non deve avere come effetto quello di produrre eh un'agricoltura per pochi per pochi che esse la possono permettere quindi c'è un problema di fondo che è l'attessibilità a questa agricoltura dall'altra parte questo fa il paio con che cosa con eh sempre un principio di divide timpera tra i produttori cioè tra grandi produttori e piccoli produttori allora il tema è non dobbiamo fare in modo né reclamare eh come dire un sostegno alla piccola agricoltura che trasformi i piccoli agricoltori i piccoli agricoltori in riserve indiane cioè noi non vogliamo riserve indiane noi allora mi ha impressionato perché vi giuro ve lo posso far vedere qua io stavo prendendo appunti e mentre a un certo punto Enzo ha detto la parola dignità io stavo scrivendo dignità ma nello stesso preciso istante mi è venuta la pelle d'oca cioè il tema della dignità è è il tema centrale cioè a me non serve che mi diano i soldi per fare un'agricoltura carina buona felice per pochi intimi quello deve diventare lo standard cioè quando come sapete forse sotto il profilo dei consumatori lavora con le CSA noi promuoviamo le CSA con urgency facciamo parte del network internazionale delle CSA vi ho accennato la costituzione dell'associazione nazionale dei produttori di agricoltura organica rigenerativa vi posso dire ancora di più perché si è parlato di agroecologia siamo insieme ad altre ONG italiane per quello che sono i progetti e la transizione agroecologica in Africa con aver costituito Azione Terre Azione Terre è un insieme di ONG che si sono riunite perché vogliono promuovere presso le istituzioni la necessità di una transizione agroecologica in questo momento in Africa dell'Ovest ma evidentemente in tutto ecco tutte queste iniziative che noi a cui noi partecipiamo da tecnici da perché quello siamo evidentemente quindi diamo il nostro contributo in termini evidentemente tecnici hanno proprio l'obiettivo ben preciso di fare in modo che queste esperienze non restino in una nicchia di consumatori o in una nicchia di produttori l'esperienza dei galline felici da questo punto di vista ci insegna molto ma noi dobbiamo arrivare a contaminare la produzione agricola quella importante per questo il come dire il punto nodale è il consumatore perché nel momento in cui noi facciamo in modo attraverso queste esperienze di convincere il consumatore a pretendere questo tipo di agricoltura e a pretendere questo tipo di cultura a prezzi accessibili è evidente che a quel punto si attua una vera trasformazione dell'agricoltura e non finiamo in delle riserve indiane a noi non ci servono le riserve indiane questo secondo me è fondamentale bisogna contaminare la necessità di costituire l'associazione agricoltura organica è nata da una cosa che penso tutti abbiate visto o avuto modo di leggere che è stato il furto da parte della Bayer dei principi dell'agricoltura organica e generativa cioè un bel giorno noi apriamo un documento firmato Bayer all'interno di questo documento c'erano i principi questo anche per rispondere a Elena mi sembra che sollevava giustamente una domanda molto concreta i criteri eccetera e ci ritroviamo in un documento con un marchio Bayer questi sono i principi a cui noi ci ripacciamo ed erano vi giuro per chi non ha visto la nostra campagna andatela a vedere esattamente presi integrali e copiati cioè quelli che noi abbiamo elaborato e messo per iscritto dopo dieci anni di esperienze in agricoltura organica e generativa li abbiamo elaborati nel 18 e messi in un documento nel 2018 per fortuna pubblicato sono stati presi copiati e incollati ok questo è quello che è accaduto e che sta accadendo nel momento in cui la Bayer dichiara che nei prossimi credo cinque anni avrà eh sessanta milioni di ettari mi sembra a agricoltura e a rigenerativa voi capite bene cioè ma dove andiamo allora il tema è sensibilizzare il consumatore affinché capisca che cosa è veramente l'agricoltura per dire rigenerativa come qualsiasi altra forma di agricoltura sostenibile e e chiede e e formuli una domanda che sia una domanda che vanno nella direzione agroecologica a cui è a cui si è fatto riferimento prima grazie grazie a te passo la parola a Marina che è avversato sì ciao a tutti io con molta modestia perché avevo delle domande in realtà che poi cambiavano man mano che intervenivano i vari relatori con con tante suggestioni a proposito di dignità e di impoverimento impoverimento economico e culturale e del dei produttori dei consumatori dei lavoratori in Italia mi pare stiamo facendo la fine della rana bollita ma anche della Grecia fondamentalmente per cui ci stanno piano piano usurpando di tutto quello che era nostro nel nostro DNA e nella nostra storia e nelle nostre tradizioni questo discorso che la Bayer usi i punti programmatici di Ideafall quelli che ha costruito con Patiche e con la sua esperienza se ne appropri e li usi poi di fatto contro di noi cioè si impossessano delle parole per dargli un valore anche diverso e per non renderle più accettabili a noi stessi che abbiamo in qualche modo ritenute nostre fin dall'inizio e questa è la più grande usurpazione che ci possa essere che ci rende difficile poi contrastare certi modelli educativi o diseducativi che però vengono imposti a quel livello e con quella forza di fuoco perché loro quell'educazione o diseducazione la fanno tutti i giorni attraverso tutti gli strumenti più potenti del mondo e noi siamo qui a fare il distinguo a dividerci sulle piattaforme sui punti trattori sì trattori no ma i diserbanti sì grandi piccoli noi siamo meglio di quegli altri cioè poi ci sono queste divisioni come fare a creare una protesta che diventi corale e che quindi non sia soltanto di altra agricoltura ma sia anche di Afal anche di Fairwatch anche di Vincenzo Moscuza di Galline Felici e di tanti altri e che si arrivi a superare delle distinzioni che sono a volte anche sostanziali probabilmente ma che di fatto servono soltanto a ridurci in povertà e in minorità alla fine e in minoranza come si fa a superare queste cose ad arrivare a una piattaforma comune che ci permetta veramente di parlare con gli interlocutori giusti cercando poi di capire quali sono gli interlocutori giusti di queste proteste perché con chi parliamo col governo un interlocutore giusto il governo anche parla di sovranità alimentare ma poi come la interpreta come la declina è la stessa di cui parliamo noi è la stessa che ci vede fare un lavoro dignitoso o è la stessa che continua a mantenerci comunque con quei contributi PAC che poi ti portano all'agricoltura 4.0 come l'industria appunto 4.0 all'innovazione costante all'indebitamento cioè superare i sindacati per come sono adesso e la politica per come adesso si può fare arrivando a parlare a tutti i consumatori produttori anche quelli meno belli ma che comunque vivono dei problemi che sono i problemi di tutti noi alla fine cioè è una domanda che avrei fatto anche a Jenny Fabris visto che stava proponendo questi giorni di protezza e di sensibilizzazione però ecco come fare ad alzare il livello creando sì Enzo Di Voci scrive galline felici parla già ai consumatori ma siamo piccoli siamo una testimonianza ecco come fare ad alzare il livello non per arrivare a livello di Bayer o a livello di altri ma per diventare un po' più rappresentativi di un mondo che è molto ampio ma che non ha voce ecco questa è la domanda che facevo a voi grazie io penso che una parte della risposta sia nelle proteste nel senso che se le proteste io lo spero se le proteste non cessano in quanto non ci sono risposte la risposta a delle piattaforme che probabilmente ancora non ci sono no perché scusate io ho visto un bellissimo documento con le proposte fatte da Asso Rurale Associazione Rurale Italiana ed è un paradiso se veramente se si riuscisse a orientare tutte le proteste intorno a un documento che ridà dignità al mondo agricolo però voglio dire sta questo nella capacità dei protestanti tra virgolette di non cessare le proteste se arriva a qualche contentino ma in qualche modo essere sempre sul pezzo e continuare a unirsi perché appunto diceva Gianni Fabri se non ci possiamo unire se non siamo uniti nei punti e allora facciamo lo sforzo di trovare i punti di unione perché se oggi Danilo Calvani a Palermo ha fatto la manifestazione e Mario Lopresti diceva in qualche modo ho capito che era come dire era ironico nei confronti di questa manifestazione ma chi l'erogia l'hanno fatta seriamente e c'erano agricoltori che io conosco oggi presenti là e ci credono in questa cosa e mi dispiace però che appunto ci sia ancora questa incapacità di mettersi d'accordo trovare delle piattaforme su cui lottare insieme no? Quindi però io spero che le proteste non finiscano nei zuccherini che possono dare i governi e quindi e poi la grande cosa importante lavorare in questo rapporto con i consumatori cioè le galline felici sono una testimonianza bene però i sindacati stessi e qui parlo anche a Enzo Livoti io sono un associato col diretti ma non mi sento completamente rappresentato dalla col diretti però fino a oggi ho parlato col mio referente della col diretti perché c'è lì il patronato eccetera però voglio dire sono lontani anni luce io ho partecipato a un incontro con loro in cui praticamente ritacchiavano su un documento che circolava tempo fa su delle proposte fatte dai comitati unitari quasi siciliani eccetera scusate però voglio dire se siamo in questa situazione vuol dire anche che chi doveva tutelare gli interessi agricoltori non ha fatto nulla non ha fatto abbastanza diciamo e allora perché loro devono non si devono sentire diciamo responsabili di questa situazione se ancora oggi non ci sono delle norme che aiutano i produttori a trovare un accordo con i consumatori quindi trovare per i consumatori delle agevolazioni ad avere rapporti con i produttori diretti direttamente e c'è una cosa perché non è stata mai proposta non è stata mai avanzata non mi basta campagna amica che si fanno i mercatini di campagna amica qua ci sono mancano le politiche che hanno fatto che facevano sì che gli agricoltori interlochino direttamente con i consumatori siamo ancora agli anni luce cioè ancora le galline felici rappresentano una testimonianza ma in un deserto di proposte che devono fare i sindacati perché se tu domani mi proponevi tu sindacato facevi avanzato perché poi le norme spesso di questi governi italiani le fanno sotto dittatura della col diretti almeno mi pare di aver capito che la col diretti è sempre nei governi c'è sempre lo zambino e ci vedi al ministero dell'agricoltura e ci fa scrivere le cose che lei pensa va bene almeno questo mi pare di aver capito non so la scia non è così perdona no 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 la col diretti è quella che più vedete le bandiere giallo verdi e tutte cose ti assicuro che sui tavoli ci si siedono i tre presidenti io lo seguo ripeto purtroppo perché mi hanno messo ma ti assicuro che non è così ora va bene ma non entriamo in questi particolari io volevo fare una domanda a tutti mi fa piacere che Nicola scrivesse quella cosa telepatia intelligenza artificiale quello che è ma forse è umanità nei confronti di quelle pensieri nei confronti dell'umanità a me piacerebbe fare una domanda un punto di riflessione una domanda chiamatela come volete chi fa agricoltura qua ci stiamo combinando che non siamo più noi agricoltori io nel periodo del cioè noi agricoltori possiamo decidere abbiamo in mano un potere secondo me che ce l'hanno tolto nel tempo e forse non riusciamo a capire noi possiamo decidere se coltivare o non coltivare noi possiamo decidere se far mangiare le persone o no forse questo non l'abbiamo capito abbiamo un potere enorme io nel periodo del covid che per me è stato uno dei periodi non voglio che ci siano fraintendimenti ma più belli perché andavo non trovavo nessuno andavo a lavorare ritornavo una cosa meravigliosa non per quello che è successo non fraintendete mia scusate io a me è venuta in testa una cosa di agricoltura non si vive ma senza si muore c'è uno slogan che dovrebbe ognuno scrivere io mentre andavo ero sul trattore con la motosera ero da solo perché non avevo neanche gli operai per collaboratori non operai per farli venire in campagna ero da solo e pensavo sempre a questa cosa ma se io smettessi di produrre gli altri non mangerebbero e questo è il ruolo di cui ci dobbiamo appropriare siamo noi che decidiamo non sono intermediari quelli che hanno le piattaforme noi dobbiamo riappropriarci di questo ruolo e ringrazio sempre galline e lo facciamo anche se in piccolo ok tutto quello che vogliamo ma abbiamo una linea creato perlomeno un modello il modello Roberto insieme agli altri hanno creato un modello galline a livello europeo grazie scusate per lo slogan è una cosa che mi è bevuto in testa Monica o qualcun altro voleva dire qualcosa io volevo sentire Monica su sta storia dei sindacati oppure ma ce la faccio anzi volevo chiederti una cosa eccomi no stavo cercando di riattivare guarda lo so aspetta aspetta volevo dirti una cosa come tu hai parlato che gran parte delle responsabilità sono internazionali legate ai fondi di investimento ai fondi i fondi di investimento quindi Vanguard BlackRock tutta sta gente qua che decide i prezzi dei prodotti decide cosa dobbiamo fare in futuro eccetera ma allora se è così la nostra capacità di incidere a cosa si riduce? beh non è poca nel senso che i piccoli soprattutto quelli che si emancipano il più possibile quindi si indebitano il meno possibile hanno un rapporto più diretto possibile con il territorio con gli amministratori del territorio con le famiglie con eh in realtà hanno più forza di quelli che stanno infilati nelle filiere verticali e questo è il problema rispondevo anche in chat cioè il problema è che non è che Feder Coldiretti e CIA non ce l'hanno presento quello che noi diciamo cioè loro ce l'hanno presente hanno solo scelto un altro modello cioè loro sono hanno scelto storicamente il modello dell'agricoltura industriale Coldiretti che è più numerosa ha la possibilità di riempire anche le altre nicchie infatti praticamente ha fatto il takeover di uno dei coordinamenti del biologico eccetera e dell'ente di certificazione collegato Demeter chiaramente questo lo fa perché essendo diciamo avendo una membership molto ampia può riempire tutte le nicchie però in realtà quando noi andiamo a negoziare per esempio a litigare o a discutere sui trattati commerciali internazionali cioè loro hanno in testa l'agricoltura industriale e spingono tutte le normative sull'agricoltura industriale infatti hanno spinto l'approvazione della legge dell'agricoltore custode che è in realtà una legge diciamo di scarso valore pratico e anzi con qualche diciamo come dire diavolo nel dettaglio un po' tecnico ma se ne potrebbe parlare a parte perché proprio nei giorni delle proteste hanno detto vabbè intanto ci mettiamo quel panicello caldo e loro sono in tutte le commissioni parlamentari determinano i ministri cioè il ministro L'obbligina io l'ho conosciuto a Palazzo ero spigliosi alla sede col diretti quando era solo il cognato della Meloni non c'era una carica regionale e già loro lo coltivavano come un possibile ministro De Castro ha la loro benedizione da tanti anni poi lui viene diciamo da filiera prodiana quindi cioè tutte le persone che sono state selezionate per determinare le politiche italiane in particolare ma anche europee hanno una filiera ben precisa che hanno in testa un modello agricolo specifico quindi tutte le scelte che sono che vengono fatte che sono state fatte sono tutte quante scelte che vanno in quella direzione anche se pensate a filiera Italia che è il progetto di punta di col diretti che tiene dentro Philip Morris McDonald eccetera eccetera quello sul quale loro hanno investito di più è quello cioè è la possibilità di dei produttori locali anche piccoli e medi in filiere verticali inserite a pieno titolo nel modello industriale quindi noi possiamo soltanto da questo punto di vista raggiungere una massa critica sufficiente a partire da quella allora e mettendo in discussione il monopolio sulla produzione delle carte e sulla produzione diciamo documentale e quindi permettendo anche ai commercialisti diciamo non associativi di poter gestire le pratiche allora forse riusciremo ad avere la possibilità di avere a livello istituzionale un maggiore pluralismo diversamente io almeno diciamo la mia visibilità romana delle relazioni politiche di forza sulle quali lavoro tutti i giorni non vedo nessuna possibilità noi dobbiamo su questo io sono molto d'accordo con Roberto noi dobbiamo partire dai nostri territori e se nei nostri territori riusciremo a a a a ricucire questi rapporti mettendo all'interno delle aziende a prescindere da dalla corrente o dalla federazione o dal sindacato al quale aderiscono cioè considerando tutte quanti alla pari pezzi del territorio se hanno un progetto più o meno come dire vicino e sono d'accordo tanto tanto con Marina questa non è la fase dell'esame del sangue cioè questa è la fase in cui costruiamo proprio la massa critica quindi bisogna provare a trovare il provare a trovare il minimo comune del denominatore e crescere nei numeri allora è stato molto interessante quello che abbiamo ascoltato se qualcuno voleva fare un po' di conclusione oppure dovremmo chiudere in sostanza quindi la cosa importante è che ci diamo appuntamento a maggio la cosa è solo iniziale intanto seguiamo le proteste quindi ognuno di noi se ha voglia di partecipare ai presidi lo faccia e che valute un po' le posizioni oggi abbiamo ascoltato un po' di posizioni però in qualche modo l'elemento che le unifica tutte è questa parolina magica che è uscita fuori che è dignità anche io l'ho scritta non l'ho scritta in simultanea con Nicola o con Enzo l'ho scritta dopo perché mi è piaciuto perché probabilmente sintetizza tutte queste tutte queste distopie di questo mondo in cui siamo però chiaramente la dobbiamo recuperare quindi siamo qua appunto per capire come recuperarla questa dignità che è stata tolta a Montagricolo e che non ho avuto la forza di farsela rispettare quindi se qualcuno vuole dire qualcos'altro in chiusura altrimenti ci facciamo i saluti e ci io personalmente vi ringrazio per aver partecipato ringrazio anche quelli che sono andati via prima mi è dispiaciuto non aver sentito una persona a me molto cara che è un sacerdote che è stato presente fino a un certo punto che era il sacerdote dei Forconi che era molto vicino all'epoca quando c'è stata la lotta dei Forconi ne condivideva e quindi è un sociologo importante nel territorio del Siracusano e quindi mi avrebbe fatto piacere sentire un suo parere glielo chiederò privatamente in ogni caso se non ci sono altri interventi o altre sollecitazioni Vincenzo volevo così dare un saluto in chiusura Presidente del Consorzio Lidia Dusa Vabbè no io ringrazio tutti naturalmente io non non ho preso la parola non so se la prenderò mai perché non avendo le idee chiarissime essendo un argomento veramente complesso preferisco parlino persone che hanno qualcosa da dire io preferisco ascoltare in questi casi quindi vi ringrazio comunque sono contenta e ci vedremo prossimamente grazie soprattutto a Vincenzo Mostuzzi grazie a voi al Consorzio a questi pazzerelli a Monica a Nicola a Gianni Fabris e a tutti quelli che hanno avuto piacere di grazie a tutti e tanti auguri buona Pasqua grazie ciao dignità 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 a voi buona serata a tutti grazie ciao vediamo il 13 aprile da Terra Mata per il secondo evento quando? ci vediamo il 13 aprile da Terra Mata per il secondo evento socioculturale tema rifiuti il rifiuti qual è il tema? rifiuti rifiuti va bene grazie